Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic! E benvenuti in un nuovo video ad altissima risoluzione! Esatto, oggi video antiprima dove andiamo a visionare per la prima volta e ad analizzare realmente questo benedetto DLSS 3.5 con, ovviamente, Re Reconstruction. Quindi anzitutto andiamo a rivedere, lo abbiamo visto durante la presentazione, subito dopo la presentazione che ci ha colto un po' la sprovvista di invidia di questo nuovo DLSS, e vediamo che cos'è il 3.5 e che cos'è la Re Reconstruction, in primis. Quindi DLSS 3.5 è l'aggiornamento a cui la suite DLSS è arrivata. Il 3.5 però include una nuova feature, come il 3.0 includeva la frame generation. Questa nuova feature è la Re Reconstruction. Ma il 3.5 voi dovete prenderlo sempre in considerazione come un aggiornamento incrementale della tech DLSS. Di fatto, ad oggi, la Super Resolution, il DLSS implementato nei giochi, che verranno aggiornati, vedrà la versione 3.5. Ma voi stessi potete scaricare gli SDK della Super Resolution e vi invitiamo a farlo nei videogiochi supportati, installarli e avete il DLSS Super Resolution in versione 3.5. Ma la Super Resolution la conosciamo ormai benissimo. Quindi quello che non conosciamo ancora tutti benissimo è appunto l'RR. Quello che chiameremo d'ora in poi RR, quindi Re Reconstruction. Per te è un incubo questo video, praticamente. Dirò RR ma sarà peggio, quindi vediamo. Che è l'ultima chicca di NVIDIA. Esatto. Che è l'ultimo aggiornamento vero e proprio delle tecnologie NVIDIA, del pacchetto di tecnologie NVIDIA, e che per la prima volta, da quando è stato introdotto questo pool di tecnologie chiamate appunto DLSS, sotto legida del DLSS, implementa non le performance ma la qualità. Sì, questa è la prima tech che incrementa la qualità di NVIDIA. Non è una tecnologia che va a rendere il gioco più veloce, più snello, con più FPS, a togliere la coda di rendering. No, qua la qualità dell'immagine è l'unica cosa su cui bisogna focalizzarsi. Oltretutto questa tecnologia fa parte della Super Resolution, quindi non c'entra nulla con la Frame Generation. No. Di fatto è completamente attivabile con e senza Frame Generation e con questa non c'entra nulla. Ma questo solo dal punto di vista teorico, dal punto di vista pratico, invece, è come se sono combinate. La Ray Reconstruction è una tech che NVIDIA ha introdotto per migliorare più che altro, va a braccetto e si lega proprio in maniera abbastanza solida con il Ray Tracing. Quindi non è una cosa da utilizzare senza il Ray Tracing. È fatta apposta per sostituire un meccanismo che all'interno del calcolo del Ray Tracing nei videogiochi è da sempre, da quando è stato introdotto, presente. Quindi tutta una serie di meccanismi, di algoritmi, che fino ad adesso sono stati utilizzati per riprodurre il Ray Tracing a schermo, grazie alla Ray Reconstruction, NVIDIA permette appunto di aggirarli e utilizzare qualcosa di migliore tramite IA. Esatto, perché si sono accorti, visto che il Ray Tracing è molto pesante, viene utilizzato sempre in combo con comunque una tecnologia di ricostruzione dell'immagine, che ricostruire i raggi con appunto la tecnica del DLSS, poi alla fine il risultato veniva comunque una qualità di immagine superiore all'originale, ma c'era ancora molto margine, perché comunque la ricostruzione non era precisa, non veniva pulita al 100%. E questo semplicemente per il fatto che tutto quello che vedete a schermo una volta che attivate il DLSS viene in realtà renderizzato e ricreato a una risoluzione inferiore, quindi quello che deve fare il DLSS nel suo upscalare l'immagine è anche ad andare ad aggiungere dettaglio, quindi ricostruire tutti i dettagli che vengono renderizzati su meno pixel, su molti più pixel. E qui c'è il meccanismo incriminato, quello del denoising, i denoiser del Ray Tracing, quindi tutto quello che viene fatto per pulire l'immagine in tutti quei piccoli dettagli che poi all'atto pratico nella totalità dell'immagine creano o meno un effetto di realismo e di come i raggi cadono perfettamente sugli oggetti e le ombre che riproducono. Parliamoci chiaro, si parla di un minor update, anche la versione, che è una versione di mezzo, lo chiarifica, non è un update del DLSS, alla frame generation o alla super resolution, non ha quell'importanza e quell'impatto. La parola chiave di questa tecnologia è innanzitutto l'inizio di una serie di tecnologie che arriveranno poi in futuro dove la qualità dell'immagine verrà migliorata e non sarà più solo un discorso di performance. E la seconda è che si concentra sulla pulizia dell'immagine. L'immagine non verrà sconvolta, non sarà di impatto come il Ray Tracing è stato all'inizio, che è stato uno degli impatti più grossi, o come altre tecnologie importanti sono viste nel passato. Ma è un qualcosa che va a smussare quelle che sono le nuove tecnologie e a far star meglio insieme Ray Tracing, Pad Tracing e DLSS, perché non possono andare l'uno con l'altro, perché il Pad Tracing non può andare senza DLSS oggi come oggi, non è giocabile, e quindi farlo star meglio e far sì che la qualità degli immaginamenti. Ma non è un game changing oggi come oggi, si mescola ad altre tecnologie che rendono la grafica game changing. Quindi le immagini che vedrete in questo video, che probabilmente vi stiamo già facendo vedere, sono su un applicativo e vi fanno vedere proprio le differenze che ci sono nell'attivarlo o non attivarlo, questa nuova tecnologia di Denoiser, per Denoising, perché di fatto va a sostituire tutti quei livelli di pulizia dell'immagine che si applicano una volta che viene effettuato l'upscaling dell'immagine, però non aspettatevi l'effetto Ray Tracing non Ray Tracing, perché quella è tutta un'altra storia e poi ne parliamo anche meglio alla fine. Però nei riflessi avete appunto un cambiamento radicale, una pulizia appunto del riflesso nettamente superiore, l'ambiente occlusion viene incluso in questo sistema dove le ombre sono nettamente più precise, soprattutto quelle fatte appunto da altri oggetti e quindi viene decisamente un'immagine più naturale. Le luci dinamiche, come cambiano in maniera più precisa con la Ray Reconstruction rispetto al Path Tracing, quindi non parliamo proprio di Ray Tracing normale o tecnica mista, cioè parliamo di Path Tracing contro Ray Reconstruction e vedete la differenza che c'è anche solo nella precisione quando cambia un tipo di luce come viene poi trasmessa su tutte le superfici vicine. Quindi il compito dell'IA qui è proprio andare ad effettuare un calcolo, una pulizia migliore dell'immagine, in tutto e per tutto, di come ovviamente vengono calcolati i raggi all'interno dell'immagine. Quindi ora che sappiamo come funziona questo Ray Reconstruction, in cosa si applica? Qual video si dividerà in parti positive e ovviamente un'enorme parte negativa che andremo a sviscerare poi dopo. Gigantesca, però per adesso focalizziamoci sulla tecnologia. Abbiamo fatto principalmente due tipi di test, o meglio, più di due chiaramente, però i due principali sono Cyberpunk, nella nuova versione che implementa appunto la tecnologia, ed è solo il primo applicativo che implementa la tecnologia. Il benchmark in video, d'altronde. E una nuova demo fatta apposta in Unreal Engine 5, che fa proprio vedere le differenze, attivo o non attivo. Questo perché ovviamente oggi, mentre esce il video, esce anche la versione 2.0 di Cyberpunk, quindi ovviamente questa sarà la prima applicazione di questo RR insieme appunto anche a Portal RITX, che arriverà in seguito, anche se è la più attesa, in realtà è la Wake, che arriverà a fine del mese prossimo. Esatto. Quello che abbiamo fatto però è mettere anche diverse schede a confronto, perché uno dei claim più grandi per questa tecnologia, e che ha, diciamo anche un po' sconvolto più tutti, è che finalmente torna alla compatibilità con tutte le RTX. Ma c'è la fregatura, eh? Non prendiamoci in giro. L'invidia ci ha fregato anche sto giro. Perché ovviamente il gioco, ve lo dico anche qua, funziona solo in pad tracing con l'RR. Io ho scaricato il gioco, provo a far andare con il ray tracing, no, non parte il flag, il flag è in grigio. Io dico, boh, cioè, non va, i driver saranno, avrò sbagliato qualcosa, non lo so, disinstallo, ristallo, rifaccio, non faccio. Sto lì un'ora quasi praticamente, e ci bestiamo, perché non va? Arriva lui, fa, mette pad tracing e si avvia. A parte che io mi sono incazzato, però a parte quello, ho detto, quindi va solo in pad tracing? E già lì capite che ci sono già girate le palle proprio pronti via. Quello è stato proprio il trigger più grande di questa fase di prova, questi giorni di prova, perché effettivamente si, a quanto pare, nella sua prima iterazione, quantomeno vedrà la luce solo ed unicamente applicato all'overdrive di Cyberpunk, quindi, appunto, al full ray tracing del gioco, che sapete benissimo tutti essere non un mattone, ma proprio una casa appoggiata sulle balle che da girare... È un ray tracing, è normale che sia pesante, cioè non è quello che mi stupisce. Abbiamo fatto i test con diverse schede, 4080, 4070, 3060, 2080 e 2060, quindi da uno dei picchi più alti a 4080, e il picco più basso dell'RTX, che è la 2060, proprio per far stare dentro tutti i tipi di giocatori, perché poi anche le 40 e le 30 hanno il rispettivo, ovviamente, l'alta fascia. La 3060 uguale a 2070, la 4070 uguale a 3080... Sì, quindi ritestare tutte le RTX. Potete capire benissimo la vostra scheda, come si posiziona da questo campione. E all'interno di questo test abbiamo voluto dare, anzitutto, delle risoluzioni di riferimento per le 40, perché abbiamo fatto dei test approfonditi con frame generation e non su 80, 70 e 60 di ultima generazione, rispettivamente in 4K, Quad HD e Full HD. Mentre per tutte le altre schede del pool, comprese queste tre, abbiamo riprodotto un test che facesse un paragone in Full HD, senza ovviamente Frame Generator. E qui già vedete che bene o male dei test, in Full HD il path tracing pesa. Cacchio, pesa. Soprattutto pesa, perché, come hai detto, tutte le schede che non hanno il frame generation soffrono. Che poi, se pensate, il risultato non è neanche male, perché 21 fps, praticamente ho fatto dei PowerPoint, io a lavoro molto più dinamici, su una 2060 comunque fa 20 fps, 21 fps in Full HD, che tu dici, cazzo, mettici una console a vedere quanto fa... Cioè, già che si avvia, è già un miracolo, va sotto zero. Al di là di queste battute, come hai detto, la frame generation è assolutamente, anche se non strettamente necessaria, al funzionamento della tecnologia... No, non fondamentale, esatto. ...vincolata a questa tecnologia, perché tutte le schede che hanno la frame generation riescono a diventare giocabili. Le altre, 3060, 2060, così via, no, non lo sono. Quindi la compatibilità c'è, ma di fatto non c'è, perché non è giocabile. O meglio, potete mettervi in photo mode, in pad tracing, e usare anche una 2060. Sì, con la photo mode potete divertirvi, però capite che non è quello di cui abbiamo parlato, e non è quello che NVIDIA aveva detto nel video, nella presentazione iniziale. Quindi, al di là delle performance, sai che comunque, Cyberpunk Impact Racing lo conosciamo, è uscito da, già comunque, cinque mesi d'aprile, quindi comunque è pesante tutto, lo sappiamo. La cosa che appunto ci interessava è capire le performance con Reconstruction e senza, perché anche nel materiale marketing di NVIDIA c'erano quegli 8 o 10 FPS in più. Avete visto, esatto, durante la presentazione i trailer mostrati e le schede di confronto che facevano vedere quella manciata di FPS in più, anche se in realtà già NVIDIA aveva dichiarato che non si tratta di performance in più, e l'abbiamo voluto semplicemente dimostrare anche noi, facendo appunto i benchmark attivo e non attivo. Quindi, vedendo che di fatto tra le due alternative non c'è differenza di framerate, o perlomeno non c'è differenza di framerate nel framerate medio, quindi tutto quello che è il benchmark classico del gioco. Quelle che abbiamo trovato differenze è stato nel frame time, nell'analisi del frame time appunto nell'utilizzo della Reconstruction o senza. Nell'intervista di martedì fatta sul canale Digital Foundry con il vicepresidente della parte IA, Brian Catanzaro, uno veramente sul pezzo per quanto riguarda queste cose, ma forse uno dei più sul pezzo. Beh, uno dei pezzi grossi anche di NVIDIA, volendo vedere. Ha dichiarato effettivamente che ci sono due millisecondi, quindi che la Reconstruction ha un costo effettivo di due millisecondi nel frame time di un videogioco. I think we're somewhere around two milliseconds on a 4090 at 2160p. E tra l'altro lui ha fatto proprio l'esempio su 4090. Matematico, lo. Matematico. C'è proprio preciso spaccato al capello e noi abbiamo voluto rifare lo stesso test, quindi 4K con 4080, quindi abbiamo visto bene o male identico. Vorremmo che parlasse di più lui e meno il marketing di NVIDIA, perché sinceramente non c'è mai capitato di avere una corrispondenza così precisa e di avere una corrispondenza così precisa nei test fatti. Sono due cavolo di millisecondi, cioè è incredibile. Quindi questa cosa ci ha fatto molto ridere. Però comunque alla fine non c'è differenza effettiva. No, esatto. Si traduce alla fine in un nulla di fatto o perlomeno nella maggior parte dei casi facendo una media ballano veramente uno, due, neanche punti percentuali quasi. In ogni caso abbiamo voluto verificare che la tecnologia comunque avesse un costo sul frame rate o sul frame time in generale sulla stabilità del gioco e l'abbiamo verificato. Un minimo di costo ce l'ha. Ma il punto, oltre alle performance sfangato, il fatto che le performance non cambiano attivo o non attivo o comunque cambiano di poco, si vede? Si percepisce questa re-reconstruction? Ovviamente, come detto prima, si tratta di un manual update, quindi non è di fatto un miglioramento enorme e si parla di un miglioramento attualmente su quella che è la miglior qualità grafica disponibile, il pad tracing. Quindi di fatto il miglioramento però c'è, però non è un miglioramento della qualità dell'immagine, o meglio, non è un miglioramento della grafica in sé come Asset Text, è un miglioramento della pulizia dell'immagine. Si nota più dettagli ed è più pulita. Quello che viene fatto proprio dal denoiser, fatto dall'IA, da Nvidia, è una pulizia, ma non solo una pulizia, perché se vedete anche i paragoni che vi stiamo facendo passare adesso in sovrimpressione, le immagini sono molto più nitide, tutti i riflessi sono molto più precisi, quindi non solo i riflessi nell'acqua con le scritte che passano dall'essere sbiadite all'essere proprio precise precise, come se fosse uno specchio, ma anche tutti gli effetti di occlusione ambientale, quindi quando una superficie crea un minimo di ombra che con un denoiser normale verrebbe piallata brutalmente, con la re-reconstruction invece viene definita meglio, e tutta una serie di migliorie che poi nel complesso rendono più vivida e reale l'immagine, e quindi aumentano l'immersione, ed è quello il punto del patracing, quindi è una correzione originale del patracing, potremmo dirla così, perché quella che appunto è stata venduta come l'implementazione del patracing originale è un'implementazione, non dico a metà, però che comunque doveva fare i conti con alcune problematiche di potenza hardware e ovviamente di ricostruzione dell'immagine con cui adesso si è venuti a patti, dove si riesce finalmente ad avere il patracing nella sua immagine più giusta e migliore, basta vedere le immagini riflesse, le scritte cambiano enormemente, se è un riflesso, se proprio l'immagine è estremamente più pulita, ma anche nella vegetazione, le ombre che vengono richiamate, ma non solo, guardate tutto quel flickering delle immagini, degli alberi, in un oggetto del genere, mia dorata 6800 XT Midnight Black, la luce illuminata nel video va nelle ventole, c'è una rifrazione superiore negli oggetti piccoli in cui la luce passa e questa luce viene tradotta in un rumore nel gioco perché non riesce, nelle ricostruzioni dell'immagine, viene uno schifo e qua questo dinosaurio va a pulire questo pezzo, ma ci sono diverse, c'è spugli in game, ma spesse immagini in game, grate o altro, perché è una città molto complessa, esatto, dove tu vai con la macchina, illumini tutto e vedi sto schifo quando sei impatterisi, schifo no però, queste imperfezioni impatterisi, qua te le va a pulire, quindi è un discorso di proprio pulizia dell'immagine, ma non è che migliora la grafica del due volte. Questo lo vedete soprattutto dalla demo in Unreal Engine, perché Cyberpunk è probabilmente il gioco perfetto per far vedere questa tecnologia ad oggi, perché è denso come non mai, è probabilmente uno dei mondi più vivi e belli creati per il momento del gioco, a mani basse, ma la demo che ci hanno dato in disponibilità da provare proprio con la tecnologia, vi fa proprio vedere quell'effetto che ha appena spiegato Davide, di rumore nell'immagine che viene riflessa, nella luce che viene riflessa su una superficie particolarmente riflettente o comunque anche mediamente riflettente. E vedete come da attivarlo o non attivarlo, pialla completamente l'immagine o riduce completamente il rumore. Quindi la tech in sé non possiamo dire che non funziona. Ha la sua applicazione, applicazione minore, applicazione di contorno che va ad aggiustare un difetto che prima non ti avevano detto, che ora c'è, però è una cosa che comunque il suo lo fa. È la classica cosa che attivi e non attivi e passando dal off all'on dici è cambiato qualcosa, non capisco cosa, ma è cambiato qualcosa. Poi se ti metti lì nel particolare lo vedi cosa è cambiato, sono alcune cose che lo vedi che è cambiato. Però normalmente l'immagine dici l'immagine è più pulita, lo percepisco che è più pulita. Quindi di base la tecnologia per anche il lavoro che c'è dietro, quindi anche solo l'idea di arrivare a sistemare un problema come questo, quello dei denoiser, per il ray tracing, contando appunto che NVIDIA sta puntando ovviamente tantissimo su l'IA, ma soprattutto anche sull'applicare il ray tracing sempre di più ai videogiochi, è una cosa che apprezziamo, è una cosa che abbiamo apprezzato e che di fatto funziona. Ora, cosa ci impedisce di andare da NVIDIA con le lance? Perché un mese fa ci ha detto che il ray tracing è un ray path tracing, nascondendosi dietro la parola. Alle parole, diciamo anche. Nel fatto che appunto c'è stata quell'intervista di Brian Catanzaro su Digital Foundry dove comunque viene detto che questa tecnologia può funzionare il ray tracing e a quante pare, anche se stiamo aspettando una risposta ufficiale da parte NVIDIA e CDPR per quanto riguarda il discorso perché non ci avete dato anche il non-pad tracing con questa cosa, perché di fatto attualmente dall'estazione da video la risposta ufficiale è che non abbiamo avuto tempo per implementarlo anche sul ray tracing. Volevamo farla vedere solo sul pad perché era più bello. Nella sua forma migliore, diciamo. Però è ovvio che rimane monca anche perché i giochi supportati sono giochi pad tracing. I giochi pad tracing al momento sono... due o tre se contiamo anche i rifatti. Due, il triple A e due o tre rifatti. Arriva Alan Wake però sono tre tra un mese, un mese e mezzo. quindi capite bene che dovremmo essere super incazzati e insieme abbiamo solo lievemente incazzati dopo le nostre prove proprio perché abbiamo capito o perlomeno quello che ha detto Brian Catanzaro lascia percepire infatti anche quello fa montare un po' la rabbia non c'è ancora l'ufficialità di questa cosa fa percepire che il modello è capace di andare anche solo in ray tracing in tecnica mista e non per forza in pad tracing solo che manca l'ufficialità di questa cosa. Quindi capite che a noi mentre abbiamo dovuto preparare questo video eravamo altamente nervositi perché ovvio che se si conferma che va solo in pad tracing questa tecnologia diventa semplicemente una finezza e va trattata come finezza se può essere scalata in tutti i giochi di ray tracing e migliorare appunto il denoising dei giochi di ray tracing diventa una concreta risorsa per il gamer medio e quindi diventa qualcosa di più rilevante quindi è ovvio che siamo in mezzo tra queste due definizioni a seconda di come verrà supportato e si evolverà questa reconstruction il giudizio è o l'uno o l'altro. Se si conferma solo in pad tracing rimane una finezza e finisce lì niente di che se invece verrà applicata anche nei giochi con ray tracing normale quindi con ray tracing ibrido dove si va a sommare una parte di rendering tra rasterizzazione e ray tracing allora diventa qualcosa di veramente utile. Dobbiamo sempre distinguere la tecnologia che nel caso di Nvidia è quasi sempre ottima da come viene pubblicizzata e come viene venduta nel caso di Nvidia quasi sempre male. Esatto. E proprio da questo cogliamo il gancio per trattare il punto principale del video quello che vorremmo trattare come conclusione del video perché la tech è ottima Nvidia sta portando avanti questo discorso di miglioramento e lo ha detto anche più volte e lo ribadisce ogni volta che può il fatto che da adesso in poi si punta anche tanto alla qualità il DLSS esiste funziona verrà aggiornato anche il 3.5 ha aggiunto migliorie anche lato performance d'ora in poi si punta alla qualità del videogioco e per quello abbiamo titolato in questo modo forte per quello abbiamo detto che il DLSS 3.5 è un po' la next gen della grafica ma anche per un altro motivo alla fine quest'anno si è stata una discussione enorme per delle cavolate cioè per i giochi usciti non proprio al 100% su PC ma la vera mancanza di quest'anno al di là di questa cosa qua di giochi che escono rotti che è una cagata è che è mancata lo sviluppo verso l'alto cioè in un anno così denso di giochi con già giochi della generazione non c'è stato nessun titolo tecnicamente che è saltato che è riuscito a sbancare Lunaro a scavalcare a saltare i limiti quando parliamo di giochi più fighi stiamo parlando di Cyberpunk e forse arriverà Alan Wake è la speranza di quest'anno però per adesso è vuoto parliamo di titoli clamorosi Baldur's Gate che però non cambia a livello di qualità dell'immagine il motore è fighissimo ma a livello di qualità dell'immagine esatto dove la maggior parte di AAA sono stati ecclissati dalla Global Illumination di un gioco per Switch di Zelda e quindi dove il gioco più aspettato con più budget Starfield con cui dietro Microsoft che ha più soldi di mezzo mondo è uscito neanche senza il retracing perché lo sponsor non lo supporta se lo attivi due secondi va a 2 fps e quindi di fatto non c'è stato un vero miglioramento e tutti si lamentano ma l'ultra su PC non c'è più non c'è più come in Starfield l'ultra è il retracing se non lo vogliamo capire non esiste più l'ultra con una 2070 una 4090 cambiano gli fps ma la qualità dell'immagine non cambia tanto e lo diciamo con cognizione di causa perché qui abbiamo anche voluto all'interno della prova fare delle catture fatte apposta proprio per questo discorso qui per farvi percepire anche il discorso che vogliamo introdurre e farvi capire di questo dettaglio dell'ultra che il retracing è il nuovo ultra e non più il dettaglio ultra in rasterizzazione proprio perché da qui in avanti ma in generale da quando è stato introdotto in questo modo il retracing la differenza è nettissima tra le due cose cioè la rasterizzazione al massimo del suo livello può arrivare solo fino a un certo punto e da lì in poi quello che puoi migliorare a livello di fotorealismo a livello di immersione nel gioco è tutto illuminazione tramite retracing ma perché come dice Brian Catanzaro nell'intervista che vi consiglio di guardare dopo questo video con Digital Foundry la rasterizzazione l'illuminazione è prevista e è preapplicata lo sviluppatore per quanto fenomeno nel caso non può prevedere ogni cosa e andare a vedere tutto l'unica cosa è col calcolo diretto che ci puoi arrivare e infatti vedete qua una banalissima macchina con l'illuminazione che viene bloccata dal cespuglio davanti mentre la parte passa tutto questo è realismo nel videogioco è la vera modalità ultra nei videogiochi che c'è e che vogliamo vedere e che quest'anno è mancata è mancata in Starfield è mancata in quello gioco della Russia che non mi ricordo mai come si chiama Atomic Heart è mancata in altri titoli e in i titoli in cui c'è stata è stata blanda Jedi Survivor Resident Evil 4 e anche Hogwarts Legacy ed è quello su cui vogliamo mettere veramente un punto è quella la vera next gen tutti i giochi Rial Engine 4 tutti gli altri giochi che stanno uscendo adesso con Rial Engine non sono vera next gen non è la vera next gen il vero salto il salto arriverà quando ci sarà questo patracing e retressing e parliamo ovviamente di salto a livello tecnico perché chiariamo questo punto visto che abbiamo preso in causa dei titoli della madonna di quest'anno quest'anno a livello videoludico a livello di gameplay e quello che offrono i giochi è stato un anno bellissimo sotto tanti punti di vista al di là di tutti i problemi che ci sono stati su quei pochi titoli che abbiamo citato anche prima il punto noi stiamo parlando di salto tecnico in avanti verso la next gen quello che da tutti viene decantato un po' come la next gen quindi più potenza e più possibilità di fotorealismo sempre più spinto sì nel 2023 ci accontentiamo di un hardware record che funziona su pc esatto slice of p che prende comunque voti alti ed è l'ennesimo gioco Red Engine 4 che fa 300 fps su una 4090 super chiuso neanche tanto elaborato l'ultra è questo è quello che vogliamo dai videogiochi dalla grafica per essere veramente next gen è questo e anche in Starfield quello che manca è la profondità che manca è un vero ray tracing fatto veramente bene che possa far lievitare la grafica poi vabbè il caricamento e tutto il resto che uno può discutere è un'altra cosa però a livello grafico quello che manca è che da profondità l'immagine è quello quindi per tirare un po' le somme su questo DLSS 3.5 è stato più grosso come aggiornamento di quello che ci potevamo aspettare perché di fatto è un qualcosa di bello da vedere implementato sempre di più sul videogioco ed è anche bello che Nvidia stia cominciando a puntare più sulla qualità che sulle performance che bene o male ha visto un po' come protagoniste le ultime due grandi tecnologie quindi frame generator e super resolution ora la palla va agli sviluppatori però perché la tecnologia possono anche essere messe a disposizione ma se non vengono applicate e i giochi che escono appunto sono i soliti sempre in Unreal Engine 4 con Traversa Stuttering e tutti i problemi di sorta non c'è quell'evoluzione che noi vogliamo e quella cosa next gen che noi veramente vogliamo e ci aspettiamo possa arrivare da qua ai prossimi anni ci dispiace solo il fatto che tanti di voi probabilmente chi perlomeno non ha accesso al frame generator questa tech dovrà aspettare a vederla veramente a meno che in foto mode quindi l'unico vero rimorso e rammarico di questa analisi è proprio questo il fatto che sia ad oggi limitato solo è un colpo devastante perché sinceramente nascondersi dietro la parola retracing e patressing è stato qualcosa di veramente brutto sperando che come detto sia solo questione di tempo se così non deve essere ovviamente la tecnologia rimane qualcosa di carino ma finisce lì una finezza quindi ragazzi detto questo la palla passa a voi fateci sapere che cosa ne pensate se l'aspettavate questo video analisi volevate saperne di più se avevate già capito tutto se la userete non la userete tutto quello che volete alla prossima ragazzi ciao ciao Grazie a tutti